Oggi come federazione del territorio di Trieste siamo qui presenti in Riva Traiana per solidarizzare con i ristoratori di Trieste e non solo, anche con chi gestisce le palestre, con chi gestisce le piscine e con tutto l'indotto che purtroppo da mesi, quasi un anno, non lavora più causa questi iniqui di PCM. Noi ovviamente non siamo negazionisti, non neghiamo l'esistenza della pandemia o di questo stramaledetto virus, semplicemente diciamo come mai nei supermercati ci sono sempre gli assembramenti, negli autobus ci sono sempre gli assembramenti, mentre nei nostri bar, nei nostri ristoranti la gente non può entrare. Per cui noi rivendichiamo che le istituzioni italiane rispettino gli accordi internazionali e ripristino il Fondo Trieste perché il Fondo Trieste è stato soppresso nell'indifferenza più assoluta dei politici triestini, dei politici locali e il Fondo Trieste serve per dare sostentamento ai ristoratori e a quanti stanno subendo questi iniqui di PCM.